Maria Sofia ha risposto con un video a tutte le critiche che ha ricevuto dopo le sue ultime dichiarazioni scandalose e ragazzi vi assicuro, le mie aspettative erano davvero basse ma è riuscita incredibilmente a fare ancora peggio di quanto mi sarei immaginato è forse una delle risposte più imbarazzanti che abbia mai visto per chi non sapesse di cosa sto parlando farò un riassunto di qualche secondo anche se vi consiglio di recuperare il primo video su questa storia in pratica Maria Sofia è andata in una diretta su Twitch a dire che secondo lei due parenti che decidono di avere dei rapporti a letto dovrebbe essere tutto normalizzato Cosa ne pensi dell'incerto? Io assolutamente lo vedo come una cosa che va normalizzata e anzi io credo che sia un fallimento della cultura il fatto che l'incerto sia ancora visto come un tabù Naturalmente per questa cosa che ha detto è stata criticata da chiunque e quindi lei ha prima rilasciato un'intervista fanpage e poi un paio di giorni dopo ha pubblicato questo video su Instagram per chiarire definitivamente questa storia Ho parlato di quelle dichiarazioni che ha fatto su Twitch quindi penso che sia corretto anche mostrare le sue spiegazioni Prima di vedere però cosa si è inventata voglio fare un piccolo gioco con voi Immaginate di essere in un videogioco che si chiama Maria Sofia Simulator In questo videogioco voi siete Maria Sofia Vi svegliate e siete lei In particolare pochi giorni dopo aver detto quella stronzata sul normalizzare quella roba E il videogioco consiste nell'uscire da quella situazione nel miglior modo possibile ed è la scelta multipla Per come la vedo io ci sono tre opzioni La scelta numero uno si chiama le scuse Come si può intuire scegliendola si ammette di aver detto qualcosa di stupido Capita a tutti di fare un errore Certo non tutti diciamo che vogliamo normalizzare i farsi i propri genitori però capita a tutti di sbagliare insomma in qualche misura Questa direi che è quella che scegliere io nel 90% dei casi e penso che sia la cosa giusta da fare La seconda scelta si chiama la finta tonta Con questa scelta di fatto non farete niente Quindi semplicemente aspettate che la gente si dimentichi quello che avete detto arriverà qualche altra polemica del giorno tipo quella di Luis e Fedez e voi non riparerete mai più di questo piccolo incidente Scelta abbastanza noiosa ma anche efficace tutto sommato Personalmente le possibilità che io scelga questa sono del 9% direi La terza scelta del nostro Maria Sofia Simulator si chiama All In E che vuol dire? Beh siamo Maria Sofia? Sì Abbiamo detto qualcosa di stupido? Sì Odiamo ammettere di aver torto? Sì Perfetto Decidete di fregarvene altamente di tutte le critiche e continuate a sostenere di voler normalizzare quella cosa Le possibilità che io scelga questa direi che sono dell'1% perché trovo disgustoso anche solo pensarlo Questa è una di quelle scelte che prendi quando hai già finito la storia e lo rigiochi per vedere cosa sarebbe successo con delle scelte diverse L'unico lato positivo di questa scelta è che anche oggi tante cose che non sarebbero normali vengono normalizzate quindi magari anche quello sarà normalizzato e verrete visti come dei pionieri di questa lotta per farsi familiari Beh Maria Sofia non so che versione deluxe del gioco abbia ma ha sbloccato una quarta opzione che io non avrei mai immaginato Questa scelta si chiama Gaslighting Che vuol dire? Secondo Wikipedia è una forma di manipolazione psicologica nella quale vengono presentate alla vittima delle false informazioni con l'intento di farla dubitare della sua stessa memoria e percezione come negare da parte di chi ha commesso qualcosa che gli episodi siano mai accaduti Questo è praticamente quello che ha provato a fare a tutta Italia che lei non ha mai detto quello che ha detto e di cui c'è letteralmente un video ma che in realtà ha detto tutt'altro e ne abbiamo capito tutti male Questo andrebbe normalizzato e non reso più un tabù? Parliamone assieme Partiamo con il dire che nella diretta da cui è nata questa polemica con normalizzare non intendevo giustificare ma poterne parlare senza stigma o disgusto ed era da intuire perché tale termine era associato alla parola tabù che significa letteralmente non poter nominare qualcosa e a un non sono contro che contestualmente era chiaro si riferisse al non provare ostilità al non ripudiare il trattare l'argomento Adesso capite come mai vi ho detto che questa risposta è riuscita ad essere peggio di ogni aspettativa? Credo che ci voglia veramente un ego spropositato per pensare di poter far credere alle persone che non hai detto qualcosa che abbiamo visto tutti e di cui è ancora disponibile il video A quanto pare lei non voleva normalizzare il latte in sé ma solo a parlarne Certo, come no? Ha anche detto il significato della parola tabù Ecco, forse si è dimenticata di un piccolo particolare e quel particolare è che ci sono i video di quella diretta e questo non è ciò che ha detto Riascoltiamo insieme quello che ha detto veramente Cosa ne pensi dell'incesto? Ah, ma lo sai che in realtà io non sono contro l'incesto? Ivan, la pensa come te Ivan, te lo giuro, io ci voglio fare un corto sull'incesto con la mia università perché io credo che il fatto che le persone trattino l'incesto come un tabù io assolutamente lo vedo come una cosa che va normalizzata e anzi io credo che sia un fallimento della cultura il fatto che l'incesto sia ancora visto come un tabù I video non mentono lei non ha detto che bisogna normalizzare il parlare di quella cosa lei ha detto letteralmente che bisogna normalizzare l'incesto due cose ben diverse e come ha preso la definizione di tabù la definizione di normalizzare è rendere normale questo è quello che ha detto oltre ad aver detto testualmente che non è contro l'incesto cosa ben diversa dal dire di non essere contro al parlarne anche perché non prendiamo oggi in giro non serve normalizzare il parlarne perché è già normale tu puoi parlare di qualsiasi cosa e il fatto che lo stavano facendo tranquillamente in diretta davanti a migliaia di persone ne è la prova non ha ricevuto delle critiche perché ha parlato di qualcosa di cui non si può parlare ma perché ha detto che vuole normalizzare farsi i propri parenti e tra l'altro se a quanto pare lei avrebbe solamente voluto normalizzare il parlarne e non l'atti in sé come memoria Sofia hai detto che l'unico motivo per il quale è sbagliato avere un rapporto con la madre è l'idea che abbiamo di sesso il fatto che desti così tanto disgusto il poter pensare di avere un rapporto sessuale con la propria madre è perché si ha una certa idea di sesso e sempre se non volevi normalizzare l'incesto come mai hai detto che per te non ci sono problemi su due fratelli hanno un rapporto allo stesso modo però credo che per la posizione culturale in cui siamo attualmente non sia problematico che un fratello abbia un rapporto con una sorella o che due sorelle abbiano un rapporto assieme oppure due fratelli bla 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 cioè io credo che lì il discorso sia molto più straightforward e ancora perché quando Ivan dice che l'importante è che venga fatto con le protezioni tu dici assolutamente sì basta che si venga fatto insomma utilizzando protezioni e non per riprodursi certo assolutamente sì spieghiamolo bene perché se no ci dicono che siamo matti Maria Sofia io non so con che persone hai a che fare nella tua vita quotidiana ma le persone non sono stupide quanto credi o almeno non tutte abbiamo sentito quello che hai detto e l'abbiamo capito tutti perché sei stata chiarissima e ne esci davvero male oltre ad essere una che vuole normalizzare quello schifo ora passi anche per una bugiarda che non si assume le responsabilità di quello che dice a questo punto credo che sarebbe stato più dignitoso andare con Lolin almeno se sei stata coerente come mai è utile farlo? prima di tutto per mettere in condizione le persone affette da questa problematica di non provare vergogna nel confessarlo così da chiedere aiuto infatti in questo senso è giusto parlare di qualsiasi cosa indipendentemente dal fatto che dal punto di vista morale sono delle cose notoriamente sbagliate proprio per non indurre gli individui a rimanere nell'ombra soffrendo in silenzio per paura dell'atteggiamento giudicante della collettività e al contrario spingerli a iniziare un percorso di terapia e guarire percorso di terapia e guarire scusa ma non diceva fino a due secondi fa che era normale per due fratelli divertirsi tra di loro e che è un fallimento della cultura che non è normalizzato cambiamo idea veramente in fretta devo dire comunque certo che è normale parlare di qualsiasi cosa sono d'accordo se per questo penso che si possa parlare anche di quella cosa con la P che non dirò per evitare problemi con l'algoritmo diciamo la trazione verso persone di età abbastanza bassa certo che se ne può parlare per evitare violenze aiutare le vittime e per molte altre cause nobili ma se lo faccio non dico che va normalizzata o che non sono contro a farlo cosa che Maria Sofia ha letteralmente detto sull'incesto come del resto posso parlare di omicidi ma se dico che io penso che vada normalizzato o che non sono contro sto facendo qualcosa di ben diverso parlare di un'azione sbagliata e mettersi a sostenerla sono due cose completamente diverse mi spiace Maria Sofia ma le persone non sono stupide quanto credi o tu non sei brava a mentire quanto credi scegli quella che vuoi è che se in live l'omosessualità è stata paragonata all'incesto non è perché siano due cose simili ma perché la repulsione istintiva con cui veniva accolta la prima tematica in passato e che ha impedito per tanto tempo di procedere con la discussione al riguardo è la medesima che si sta riproponendo adesso con la seconda ok questa credo che siano delle peggiori argomentazioni che abbia mai sentito anche per i standard di Maria Sofia lei stessa ha detto che le due cose non sono paragonabili e due secondi dopo la paragonate solo perché in passato qualcosa non era accettato ma adesso lo è come ad esempio essere gay non significa che tutte le cose che oggi non sono accettate dovrebbero esserlo solo perché una cosa che non c'entra oggi è stata accettata qui non si parla di un orientamento ma di una cosa completamente diversa si parla di andare a letto con i propri genitori i propri fratelli con lo stesso ragionamento si potrebbe dire che non so invece di volere extra bene ai propri familiari qualcuno vuole extra bene al suo animale domestico e quando qualcuno li critica per quello che fanno uno si giustifica dicendo beh in passato anche essere gay non era accettato ma adesso lo è e questa è la stessa cosa no non lo sono e non hanno niente in comune ci siamo evoluti almeno quasi tutti abbiamo capito che continuare a fare quelle cose tra parenti non è una buona idea qui non si parla di orientamenti ma di quello che nella maggior parte dei casi una violenza e tutto questo senza parlare dei problemi genetici devo dire un video davvero pessimo quello di Maria Sofia lo do un 4 su 10 solo per il coraggio di aver scelto il gaslighting contro tutta Italia quando ci sono dei video che negano tutto quello che ha detto a questo punto si è veramente paura delle prossime cose che proveranno a normalizzare ho fatto degli esempi esagerati in questo video ma a questo punto non so nemmeno quanto siano esagerati anche questa cosa che Maria Sofia vuole normalizzare avrebbe potuto essere un mio esempio esagerato eppure lei lo stava dicendo veramente in ogni caso non penso che serve aggiungere altro fatemi sapere la vostra opinione ringrazio come sempre gli abbonati per il supporto e direi che ci becchiamo alla prossima ciao 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 ciao